Che è prematuro, ma penso che sia una buona candidata per la sua ricerca. Non ho ancora l'approvazione dell'FDA, Bailey. Capo, questa famiglia è disperata. Se potessimo metterli per primi sulla lista, dar loro qualcosa in cui sperare... Perché non fare l'intervento oggi? Avery, anche se il paziente ti ha dato dello stupido, ragazzino, non devi agire da stupido. Non può prendere gli immunosoppressori per il rischio che il tumore si ripresenti. Perché non richiedere un consenso d'emergenza? Perché se qualcosa va male durante l'intervento, il capo rischierebbe di non ottenere l'approvazione. Signore, i suoi figli sono costretti a stare in Iowa. Dottore Avery. Con i nonni che sono cattivi, signore. Capo, la dottoressa Altman la cerca. Chiamerò l'FDA per ottenere il consenso e metti la paziente in lista. Che c'è? Io...